L'Associazione Volontari Italiani Sangue Avis di Agropoli ha organizzato una raccolta sangue in vista dei prossimi mesi in diversi comuni. È possibile donare presso la sede di Agropoli sita in Viale Lombardia. La prima e terza domenica del mese, il secondo sabato del mese e tutti i giovedì. Nel comune di Castellabate ogni seconda domenica dei mesi pari, febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. Nel comune di Capaccio ogni seconda domenica nei mesi dispari, gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. E nel comune di Monte Corice ogni ultima domenica di ogni mese, escluso il 25 dicembre. Inoltre è possibile fare una donazione anche nei comuni di Castel San Lorenzo il 17 gennaio, il 17 aprile, il 17 luglio e il 16 ottobre. Nel comune di Roccadaspi del 20 marzo, il 19 giugno, il 18 settembre e il 18 dicembre. Nel comune di Castelcivita il 2 aprile, il 21 agosto e il 4 dicembre. Nel comune di Felitto il 24 gennaio e il 7 agosto. E infine nel comune di Bello Sguardo il 26 marzo e il 6 agosto. È possibile recarsi presso le rispettive sedi dalle ore 8 alle ore 12.